Ben ritrovati con l'informazione su TRMH24. In primo piano bonus edilizi anche in Puglia. Pesanti le conseguenze su cantieri, aziende e lavoratori. Le reazioni arrivano da sindacati e ordini professionali. Ammonterebbero a ben 500 milioni di euro i crediti fiscali incagliati con un migliaio di cantieri fermi e centinaia di aziende a rischio chiusura. E' questo lo scenario che si prospette in Puglia all'indomani delle decisioni del Consiglio dei Ministri sui bonus edilizi e sullo stop della cessione dei crediti. Un effetto domino devastante per Antonio Delle Noci, segretario generale Filca Cisle Puglia, che ha evidenziato come le più pesanti conseguenze ricaderebbero sulle famiglie pugliesi. I posti di lavoro in bilico sarebbero non meno di 2.000. Il PIL regionale potrebbe perdere da un quinto a un terzo del valore, anche perché l'edilizia ha il grande vantaggio di mettere in moto tantissimi altri settori dell'indotto. Le avvisaglie, ha spiegato ancora il segretario Delle Noci, le avevamo già avute nei mesi scorsi con il lamentele dei lavoratori per il ritardo con il quale venivano pagati a causa della sempre più scarsa liquidità delle imprese. Una situazione che aveva portato nel mese di gennaio ad un saldo negativo delle aziende edili, pari a ben a 332 attività, una media di 10 al giorno. Ora, con questa decisione, il rischio è quello di disperdere un patrimonio di professionalità che è fondamentale per il cambiamento del Paese e che è indispensabile per realizzare quanto previsto dallo stesso PNRR in un'ottica di modernità e sostenibilità del patrimonio edilizio. Per Delle Noci è indispensabile che il Governo convochi subito i sindacati e riveda i bonus garantendo i redditi più bassi e le classi energetiche più basse, considerando anche la densità abitativa dei luoghi di intervento e utilizzando strumenti emergenziali. Sulle decisioni del Governo Meloni è intervenuto anche l'Ordine degli Architetti della provincia di Bari che invoca con urgenza risposte ad una situazione che mette a dura prova, tra l'altro, la tenuta di migliaia di studi professionali. Cambiare in maniera improvvisa e senza un adeguato periodo di transizione le regole con cui si è operato finora rappresenta un atto di irresponsabilità nei confronti di un intero comparto produttivo, scrivono in una nota. Sono migliaia gli architetti e le imprese che hanno programmato le attività e altrettanti i committenti che hanno investito. Autonomia differenziata a Bari, manifestazione della CGL contro il DDL Calderoli. Insieme al sindacato, anche l'AMPI, le associazioni, i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni pugliesi. In centinaia, per dire no, all'autonomia differenziata. La piazza Federico II di Bari ha risposto presente alla manifestazione della CGL contro il disegno di legge Calderoli. Dividendo il paese, evidentemente, lo indeboliamo e faremo grande fatica a competere con i grandi mercati europei e anche a rendere l'Italia un paese che possa in qualche modo intervenire rispetto alle dinamiche internazionali, delle grandi politiche globali, quelle economiche, quelle sociali, che si stanno in questa fase ridiscutendo in equilibri che si stanno ricostituendo. Quindi la vedo complicata che il mezzogiorno possa competere da solo con il resto dell'Europa o che il Veneto e la Lombardia da soli possano competere con il resto dell'Europa. C'è un tema lavoro che va affrontato al sud in maniera diversa rispetto al nord. Ecco perché noi contrastiamo fortemente l'autonomia differenziata. Insieme al sindacato si sono schierati anche l'AMPI, le associazioni, i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni con in prima fila il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che non ha risparmiato una stoccata alla ministro per gli affari europei, il sud, alle politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Il ministro Fitto ogni volta che fa qualche cosa di sbagliato dice che sono gli altri che non l'hanno capito. Mi ricordo la sua riforma sanitaria, adesso sta bloccando tutti i fondi possibili e immaginabili a disposizione dell'Italia, in particolare del mezzogiorno. Ci deve dare i soldi dell'FSC che servono per cofinanziare i fondi europei. Sta seduto su una montagna di danaro e sta tenendo, come si dice, bordone al governo anziché difendere il mezzogiorno. Quindi prima torna a casa e si mette al fianco del mezzogiorno per difenderlo come io mi auguro faccia, meglio è. In Italia la Puglia è tra le regioni con le più basse performance di addempimento dei livelli essenziali, seconda per la quota di persone oltre il 10% che rinuncia a sostenere spese sanitarie per motivi economici. Ecco perché anche per il deputato del Movimento 5 Stelle, Gian Mauro Dell'Oglio, la vera necessità per il mezzogiorno è che vengano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni. Le autonomie sono previste dalla Costituzione ma non possono essere fatte senza che siano fatti prima i LEP e che vengano stanziate le risorse e le risorse si parla fra gli 80 e i 100 miliardi, da dove si vanno a prendere, quindi è tutta una misura elettorale questa. Ed ora la cronaca, due malviventi con il volto coperto, uno dei quali impugnava una pistola, hanno avvicinato ieri sera un commerciante in pieno centro a Foggia, lo hanno colpito con un pugno al volto e gli hanno rubato l'orologio che aveva al polso. Non è chiaro se i malviventi siano entrati nel negozio e abbiano atteso l'uomo all'esterno. La vittima della rapina è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. Sono stati celebrati questa mattina in forma strettamente privata i funerali di Michelle Baldassare, la 55enne igienista dentale di Santeramo in Colle, nel Barese, il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato lo scorso 9 febbraio, incontrata a Pantarosa nelle campagne del comune del Barese. La decisione di celebrare l'esequi in forma privata è stata presa dalla famiglia della donna. Al momento non emergono novità dal punto di vista investigativo. Voltiamo adesso pagina, riprendiamoci il comune, l'iniziativa in piazza ad Altamura con annessa una raccolta firme. Ascoltiamo le interviste raccolte questa mattina. L'obiettivo primario di questa campagna, riprendiamoci il comune, è quella di riportare la politica nelle piazze e dopo tre anni di assenza di comezzi, di assenza di un filo diretto fra chi si propone per gestire la cosa pubblica e i cittadini, ritorniamo e ritorniamo a fare politica nelle piazze. L'occasione è quella di una doppia campagna di raccolta firme per due leggi di iniziativa popolare. Una per riformare la finanza pubblica, allentare il patto di stabilità, tutti i comuni sono sull'oro del dissesto, tanto che è stato necessario prorogare l'approvazione dei bilanci e d'altra parte tenere altri parametri per vedere se un comune funziona oppure no e cosa proponiamo? Di inserire dei vincoli di bilancio rispetto alle politiche sociali, dei vincoli di bilancio rispetto al dissesto ecologico, dei vincoli di bilancio sulle politiche di legge, quindi il pareggio di bilancio non solo finanziario ma anche nei contenuti. Da dove si prendono i soldi? I soldi si prendono ripubblicizzando Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti è quell'enorme salvadanaio di liquidità che ha il popolo italiano. Ci stanno dentro tutti i libretti delle pensioni e Cassa Depositi e Prestiti era stato creato per finanziare gli enti locali a tasseggio volati. Dal 2003 Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni e presta i soldi come tutte le altre banche. Quindi riformiamo la finanza pubblica e ripubblicizziamo Cassa Depositi e Prestiti e riportiamo la politica nelle piazze. Da ora fino a giugno faremo questo. E a Taranto nel quartiere Tamburi un incontro organizzato dal PD del capoluogo Ionico a sostegno di Stefano Bonaccini. Ascoltiamo. È stato organizzato a Taranto un incontro in sostegno del candidato alla segreteria del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Presente il sindaco della città di Due Mari, Rinaldo Melucci e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Tanti temi affrontati e le motivazioni per cui sostenere Bonaccini hanno detto i due esponenti delle istituzioni pugliese. Da primo la centralità al mezzogiorno. Un PD che vuole essere ridisegnato in funzione della questione meridionale. Oggi esiste ancora una questione meridionale. Come vedete avvale anche delle proteste per l'autonomia differenziata. Non c'è una questione settentrionale. E qui c'è un impegno preciso di Stefano Bonaccini che rimodula il proprio linguaggio, il proprio programma in funzione delle esigenze del mezzogiorno. Noi siamo sempre la terza città più grande del mezzogiorno peninsulare. Quindi in qualche maniera siamo interessati a questa dinamica. Innanzitutto perché è una persona esperta che almeno io conosco da tanto tempo. Ci ho lavorato come presidente della regione. Lui era il presidente della conferenza delle regioni. Ha una stima riconosciuta in tutti i ministeri, in tutti i luoghi dove la sua attività viene considerata di grande profilo e di grande professionalità. Il presidente Emiliano ha poi sottolineato come il Partito Democratico dovrebbe guardare al passato e pagare gli errori commessi durante la campagna elettorale. Ricordatevi che se Giorgia Meloni governa è perché il PD non ha voluto fare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle perché altrimenti almeno un pareggio secondo me lo avremmo strappato. Il governo Meloni ha aggiunto non è pronto a soddisfare le richieste dei propri elettori. Il caso del bonus 110% ne è un esempio. Immaginatevi tutte le imprese edili che in questo momento si sono sentite abbandonate e le famiglie e anche le banche che si sono sentite abbandonate solo perché c'era un'esigenza di bilancio. Si poteva affrontare in una maniera diversa. Le regioni, la Puglia, era pronta ad acquistare i crediti del 110 per compensarli con i crediti che noi abbiamo nei confronti dello Stato e avremmo dato un po' di fiato a tutte queste imprese. E voltiamo ancora a pagina, parliamo di turismo lento e sostenibile. Il comune di Cassano delle Murge punta su quello materano che collega Baria Matera. La regione Puglia sta puntando sempre di più su un turismo lento e sostenibile come la rete dei cammini che attraversa l'intero territorio pugliese e che ogni anno richiama migliaia di turisti italiani e stranieri. Ogni singolo comune ci sta mettendo del suo per valorizzare questo tipo di turismo esperienziale. Quello che noi proponiamo sono i progetti con il brand Puglia. La Puglia ha dei dati strabilianti e quindi i borghi, i comuni pugliesi devono fare rete, devono fare sistema per migliorare l'offerta turistica. E' importante alleggerire anche il turismo della costa, sappiamo che c'è un overturismo sulla costa e quindi lavorare in sinergia, in simbiosi a un nuovo piano strategico regionale del turismo, cercando di alleggerire la pressione antropica sulla costa e creare questo rapporto tra la costa, il mare e l'entroterra della Puglia. Ad esempio i cammini, il turismo outdoor, il turismo esperienziale, tutte queste forme di turismo che ben vengono accolte dai turisti soprattutto stranieri. E quindi la Puglia deve lavorare su questa, come dire, vita della nostra Puglia, delle nostre tradizioni in maniera lenta. Tra i cammini più conosciuti c'è senza dubbio quello materano che collega Bari e Matera. Il cammino materano è una bellissima esperienza che in pochi anni è diventato il terzo cammino più frequentato d'Italia. Di che cosa si tratta? Di un cammino che si svolge a piedi, in compagnia oppure da soli, da Bari fino a Matera. Ci sono vari percorsi, ma quello più conosciuto è quello della via Peuceta. Si vanno varie tappe, si dorme in piccoli ostelli e un piccolo bed and breakfast e si vive la popolazione con tutto quello che comporta. Quindi si attraversano i tratturi, si attraversano i sentieri, i muretti a secchi e poi la sera si dorme e si convive con la cittadinanza. E' il modo migliore per conoscere il nostro territorio e soprattutto i turisti del nord Italia e dell'estero quest'anno, oltre il 25% sono entusiasti di attraversare il nostro territorio a piedi. E ci spostiamo adesso in Basilicata. A Lauria proseguono le celebrazioni in vista della festa patronale in onore del Beato Domenico Lentini. Ieri la Santa Messa è stata ufficiata da Monsignor Cagliazzo. Verso la solennità del 25 febbraio a Lauria si susseguono le celebrazioni eucaristiche nei nove giorni di preparazione alla festa del patrono il Beato Domenico Lentini. Il novenario si è caratterizzato in questo anno lentiniano giubilare per la presenza ogni sera di un vescovo che presiede l'eucaristia ripercorrendo la vita del Beato Domenico Lentini. Venerdì 17 al Santuario Diocesano la Santa Messa celebrata da Monsignor Cagliazzo che in una chiesa gremita ha coinvolto i giovani dell'oratorio in un'omelia partecipata. Il Beato Lentini innanzitutto lui stesso si è fatto pane, quindi cibo di vita donata quotidianamente per tutti quanti. Il pane Gesù l'ha scelto come simbolo per l'eucaristia e lui stesso ha preso il pane, l'ha spezzato, l'ha donato ma anche e soprattutto quando il famoso momento dove ha preso i cinque pani e i due pesci li ha spezzati li ha dati ai discepoli perché i discepoli li dessero a tutta la folla. Ecco, il Lentini ha sposato pienamente questo gesto, nel senso che la sua stessa vita è diventata cibo di vita per ogni fedele, per ogni bambino, per ogni ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, per gli ammalati. Per cui è diventato segno di speranza, segno di vita per tutti quanti. Nella sala rota del Conservatorio Duni di Matera la cerimonia di consegna del premio Marconi 2023 ha segnato Annunzia Gargano e Giuseppe Ranoia per le due migliori tesi di diploma scelte dal Consiglio Accademico dell'Istituzione Musicale Materana per l'anno 2021-2022. Nella sala rota del Conservatorio Duni di Matera la consegna del premio intitolato al professore Lucio Marconi. Il premio è stato assegnato quest'anno alle due migliori tesi di diploma scelte dal Consiglio Accademico dell'Istituzione Musicale Materana per l'annualità 2021-2022. Si tratta delle tesi di Annunzia Gargano e Giuseppe Ranoia, entrambi studenti della Scuola di Musica Elettronica, tesi che hanno avuto per relatore il professor Fabrizio Festa. Il professore Lucio Marconi è stato una personalità di grande spessore umano e culturale, tra i maggiori protagonisti della vita della comunità materana, grazie ai tantissimi anni di impegno sociale, politico e civile. Il docente Fabrizio Festa ha presentato le tesi, introducendo l'esecuzione delle performance musicali ad esse collegate. Due tesi collegate tra loro dal medesimo filo conduttore, da un lato per il riferimento alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini, dall'altro per la dimensione espressiva e drammaturgica. In particolare la tesi di Annunzia Gargano, dal titolo Manifestar, si è andata sviluppando sul modello delle opere drammaturgico-musicali di Luigi Nono, opere queste ultime in cui si intrecciano indissolubilmente l'elemento sonoro con quello politico, la ricerca fonica con la costruzione drammaturgica, in un costante rinnovarsi delle forme e delle idee. Sulla punta della spada è poi il titolo della tesi di Giuseppe Ranoia, tesi incentrata sulla relazione tra Pasolini e Caravaggio, artisti che hanno affrontato fino in fondo il loro ruolo di alfieri, di una verità spesso inconciliabile coi tempi e scomoda ai loro contemporanei. L'elaborazione performativa di Giuseppe Ranoia si avvale di conseguenza anche di un originale lavoro visivo realizzato dallo stesso Ranoia, nel quale trova eco multimediale il confronto tra Caravaggio e Pasolini. Il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Matera, vista la particolare rilevanza delle tesi di diploma di Nunzia Gargano e Giuseppe Ranoia, ha deciso per la loro pubblicazione. Alla disperazione dai comunisti. E restiamo ancora in Basilicata. A Montescaglioso iniziano le giornate clou del Carnevale Montese. Questa mattina la sfilata dei carri allegorici per le vie della città. La festa continua anche stasera e poi giornata conclusiva quella di martedì. Terza giornata del Carnevale Montese, giunto alla sua 64esima edizione. Questa mattina la sfilata dei carri allegorici per le vie della città si proseguirà poi in serata e a conclusione lo show dello Zoo di 105. Ascoltiamo i membri della giuria che si occuperà della valutazione dei carri allegorici dell'edizione 2023. Abbiamo accompagnato con delle presenze durante il periodo di lavorazione i lavori che i ragazzi hanno svolto con tanta passione e tanto amore rispetto alla costruzione dei carri. Già in fase di presentazione dei bozzetti si vedeva che la qualità delle idee era molto valida e molto alta. E questo ritorno al Carnevale rappresenta proprio un inizio di forza accompagnato anche da questa bellissima giornata che racconta anche un po' dell'impegno giovanile che i giovani appunto in Basilicata e quindi parlo di Montescaglioso ma anche a Stigliano e anche nei paesi limitrofi riescono a dare con la loro presenza e il loro lavoro. I giovani al centro di questo evento? Sì, i giovani ed è questa la cosa più importante se vogliamo anche più preziosa in una regione che si sta drammaticamente svuotando che sta perdendo le sue energie più creative e anche la fantasia. Ecco, Montescaglioso ci sta dando una grande lezione. Penso che la Basilicata debba fare tesoro di quello che si vede oggi, quello che si è visto in questi giorni anche nella creazione dei carri che è stato un processo lungo, complicato che si è svolto la notte. I ragazzi hanno sottratto energie al proprio tempo libero. La settimana scorsa un altro importante evento quello della BIT di Milano al quale avete portato anche il Carnevale di Montescaglioso. Come è andata? La prima volta per Montescaglioso alla BIT di Milano abbiamo portato i prodotti enogastronomici, i percorsi itineranti ma soprattutto abbiamo portato il Carnevalone. Il Carnevale Montese che ha tanto suscitato interesse per i turisti, per i visitatori ma anche per i tour operator che ci hanno insomma avvicinato e ci hanno chiesto incuriositi di quelli che sono insomma il programma del Carnevale. Abbiamo visto in loro interesse ma soprattutto abbiamo già preso contatti e portato a casa progetti su cui lavorare. E a Matera la WISP della Basilicata ha presentato l'iniziativa Calcio Carnevale Trofeo Fair Play. Vediamo. Una giornata all'insegna del calcio per celebrare il Carnevale. Abbiamo pensato che per i più piccoli fosse l'occasione giusta per condividere con le associazioni sportive affiliate che hanno accolto l'invito poter portare avanti un progetto che è quello di creare cultura sportiva attraverso il gioco, il divertimento e lo sport. Il calcio è lo sport più popolare. Purtroppo ancora oggi assistiamo a episodi che non mettono in evidenza il fair play, ma soprattutto si fondano su gesti discriminatori vogliamo creare invece queste occasioni di confronto leale tra le varie associazioni che portano i ragazzi e giocano in maniera senza di appartenenza a ciascuna squadra ma invece in maniera mista un percorso insieme che rivede al centro di questa attività educativa sempre divertendosi. Credo che sia un grande successo questa prima giornata che replicheremo mensilmente per dare a questi appuntamenti una continuità. La giornata di oggi rappresenta la condivisione di quei valori che noi quotidianamente lavoriamo con i ragazzini nella scuola calcio. Un giornata bellissima di divertimento di fair play e di completa condivisione di questi valori. Un giornata bellissima già che i ragazzini si divertono e poi non c'è agonismo ed è bello essere tutti insieme non fare un'unica squadra ma squadre miste rende ancora di più il valore di questa giornata perché il fair play è anche questo non è solo vittoria ma è successo nelle manifestazioni. Poi per quanto riguarda la base dei ragazzi è proprio lì che bisogna lavorare molto per far crescere questi ragazzi in maniera molto più educata più sana perché è dalla base che si inizia è bello proprio imparare i valori a questi ragazzi perché se li devono portare dietro per tutta la vita. I bambini si stanno comportando veramente bene rispondendo benissimo a quelle che sono le indicazioni le regole improntate grazie anche ai ragazzi del liceo scientifico che hanno partecipato e hanno veramente messo a disposizione una bella cultura quella che è del fair play e quindi siamo contenti insieme agli altri istruttori e alle altre scuole calcio di questa manifestazione abbiamo accettato molto volentieri i bambini continuano a divertirsi e per noi è la cosa più importante. E torniamo adesso in Puglia, Bari grande successo per la nuova edizione della Running Art oltre 2.000 partecipanti. Oltre 2.000 partecipanti alla quinta edizione della Running Art la Corsa del Cuore a Bari una manifestazione organizzata per promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari dalla delegazione pugliese dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri in collaborazione con Amacuore e Bari Road Runners Club la manifestazione è stata preceduta da una giornata in cui è stato possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogrammi e misurazione glicemica e assistere a corsi rapidi per il primo soccorso. E quindi quasi 2.000 iscritti a questa manifestazione bellissima in una giornata in una cornice di una Bari splendida ieri anche una giornata per la prevenzione ottima abbiamo fatto veramente numeri da record e poi anche oggi credo che la gente si sia divertita l'importante è non dimenticare il motivo per cui siamo qua la prevenzione cardiovascolare e quindi come oggi dedicate tempo al vostro cuore. Parlare di prevenzione è una giornata di festa come quella di oggi è molto importante oggi qui abbiamo visto adulti, giovani, bambini, famiglie tutti per muoversi con gioia. Una manifestazione aperta davvero a tutti con tre diversi percorsi da 10, 5 e 3,5 km per la passeggiata a Barivecchia tra gli atleti anche qualche supereroe. Prima volta, prima volta, sì. Che percorso avete scelto? 10 km. Com'è andata stamattina? Meglio del previsto sono riuscita a finire 10 km. In che tempo? 1 ora e 5, credo. Non da sportivi, però. Nonostante la fatica della ripresa siamo riusciti tutti ad arrivare sotto l'ora, tranne lui. Bugia, bugia. Lui ha fatto 1 ora e 10. È bugia. Saranno 20 anni che corriamo ma c'è chi corre come atleti e chi corre come me semplicemente per sedersi tranquillamente a tavola. Si corre con tutta la famiglia. Com'è andata? Abbastanza bene un percorso ottimale tempo ringraziando il signore ottimo. Ti sei divertito? Sì. Com'è andata questa cosa? Benissimo! Palavolo maschile serie B la Joy Volley sarà impegnata contro Omega Mesagne per la sedicesima giornata nel girone HTRM Network trasmetterà la partita in diretta oggi a partire dalle ore 18. prosegue la preparazione della Joy Volley in vista del match al palacapurso di Gioia del Colle contro Omega Mesagne i gioiesi sono a caccia dell'ottavo successo consecutivo per continuare a inseguire l'obiettivo playoff un compito tutt'altro che impossibile considerata la buona posizione di classifica della Joy quarta una manciata di punti dalle due battistrada del campionato Leverano e Grottaglie la sfida è apertissima siamo tutte squadre di valore che lotteranno fino alla fine per arrivare ai playoff il commento di Gianluca Bisci migliore in campo nella sfida che ha visto Joy avere la meglio a Napoli su Atena Volley per 3 a 1 noi dobbiamo pensare solo a fare bene e a sfruttare il fattore campo dato che affronteremo in casa sia Leverano che Galatone non ci dobbiamo cullare per le sette vittorie consecutive ma comunque sono un segnale importante che stiamo andando nella giusta direzione sul prossimo impegno contro Mesagne e per Bisci sarà importante che la squadra resti concentrata e che lotti per portare a casa i tre punti la partita tra Joy Volley e Omega Mesagne valida per la sedicesima giornata della serie B girone H del campionato di pallavolo maschile sarà trasmessa in diretta su TRM Network domenica 19 febbraio a partire dalle 18 Ancora sport della nostra nuova collezione è improntata sull'educazione stradale su far imparare alle persone grandi e piccoli come poter andare in bici senza invadere le corsie insegnando un po' coltino che è come andarci in maniera tranquilla senza creare problemi agli automobilisti Qual è uno dei valori più importanti che si riesce a trasmettere attraverso queste iniziative e questo sport? La collettività voler stare in gruppo voler stare con la propria famiglia passeggiando in maniera del tutto ecologica Si tratta del primo di una serie di eventi che si svolgeranno a Bari Sì, ci saranno altre giornate il 5 di marzo il 25 e altri a seguire dove sempre improntati sull'educazione stradale e sempre con le bici che forniremo comunque noi ci sarà tanto in pentola per appunto improntare i baresi e le zone limitrofe per le bici E il nostro telegiornale termina qui vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo ancora una buona domenica